La qualità della vita a Vicenza è complessivamente migliorata nell'ultimo anno. A dirlo, un'indagine presentata al Festival dell'Economia di Trento, promossa dal Sole 24 Ore, che ha suddiviso l'analisi del benessere per tre categorie suddivise in fasce d'età. Il risultato più incoraggiante nella fascia bimbi fino a dieci anni, che vede Vicenza e provincia al ventiquattresimo posto nazionale e seconda a livello regionale dopo Treviso. Secondo posto in Veneto anche per la categoria giovane, 18-35 anni dopo Belluno e 44esimo a livello nazionale. Veneto spicca per il secondo posto in molte posizioni su qualità della vita, in particolare in ambito sportivo, poi anche sulle politiche giovanili. Credo che Vicenza sia una città grazie anche alla propria welfare, alla propria sociale, ma anche alle nostre imprese con l'occupazione giovanile, che addirittura ci lascia ai vertici nazionali, sesto posto con il minor numero di disoccupati. 43esimo posto nazionale per la terza categoria, quella degli over 65, dove Vicenza spicca al nono posto nazionale per speranza di vita. Incide negativamente invece sulla media la 102esima posizione su 107, quella che riguarda il numero di medici specialisti attivi in provincia ogni 10.000 abitanti. Per gli anziani si può fare di più a partire dai centri diurni. Dare loro anche un po' di supporto, soprattutto per le persone sole, che in questi centri trovano ristoro, trovano un momento di socializzazione, ma anche un momento proprio di sostegno, di aiuto, come l'aiuto nei pasti caldi durante la settimana, quando magari portiamo i pasti in questi centri.